Musica Neanche la neve, un intervento all'ultimo minuto ha affermato i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Rivarolo a festeggiare Santa Barbara Sì, oggi abbiamo questa Santa Barbara innevata, io da quando sono qua di Rivarolo è il primo anno che vedo la neve a Santa Barbara e oggi sì, anche oggi siamo riusciti a fare il nostro intervento quotidiano continuando a festeggiare la nostra Santa Barbara Celebrazione come sempre, il giro ai cippi per commemorare i caduti Sì, questa mattina è stato un giro molto più breve, causa anche la neve per non tenere tutte le persone a noi amiche vicine che si hanno dovuto partecipare a lasciarle tanto sotto la neve, abbiamo fatto proprio un giro molto più breve, ridotto ma il ricordo dei nostri colleghi che sono mancati nel 58 è sempre vivo e vicino a noi Presenti sempre nonostante il mal tempo, anche le autorità, è giusto che siano presenti per ringrazzarvi del posto operato Sì, sì, anche quest'anno come tutti gli anni i vari sindici della zona, l'onorevole Bonomo poi c'era il rappresentante della regione Dottor Valle e quindi l'ispettore antincendi Garetto che rappresentava anche il nostro signor comandante che purtroppo non poteva essere presente perché sennò doveva farsi tutte le sante barbare di tutti gli staccamenti Quindi come gli anni ringrazio sempre tutte le autorità, le associazioni e tutte le persone che vogliono bene a noi e in generale ai vigili del fuoco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti